Si è parlato di PNRR, si è parlato di ristori, di tessuto produttivo, si è parlato di riaperture. Ad oggi noi non conosciamo il piano nazionale di ripresa e resilienza del governo, il governo non ha ritenuto di illustrare il piano, ha piuttosto chiesto le nostre proposte che noi abbiamo ribadito, sono molte le materie che Fratelli d'Italia ha posto in questi mesi a partire dalla questione centrale al nostro avviso della natalità e della famiglia, noi gli diamo risorse per consentire agli italiani di tornare a fare figli a partire dal tema degli asili nido, così come poniamo il problema della sicurezza, delle infrastrutture, della cura del ferro, dello sviluppo dell'infrastruttura portuale, abbiamo ribadito le nostre proposte ma abbiamo anche posto una questione di merito e di metodo, chiedo scusa, oltre che di merito, perché ad oggi il Parlamento della Repubblica Italiana si è a discusso di un piano che era il piano del governo Conte.